Volevo venire qua a vincere, sapevo che avevo un'opportunità di giocare tanto, personalmente quella è la cosa più importante per me, poi certo vuoi vincere le più partite possibile, siamo 4-0 adesso, abbiamo la prossima che sarà difficile con Venezia, numero uno in campionato, però dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo allenare bene qua questa settimana e stare pronti. La chiave del match è che dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo stare pronti, dobbiamo avere tanta energia, dobbiamo difendere, essere fisici perché sono una squadra molto fisica loro, quindi dobbiamo essere pronto fisicamente, poi mentalmente, credo che sarà una partita con molta energia, sicuramente, già dalla prima partita che abbiamo giocato in campionato, da quando sono arrivato io, era bellissimo. Quindi aspetto la stessa cosa.